Sì, mi sono seduto all'inizio puntata con l'intenzione e con la voglia di andare al cinema a vedere magari l'horror, no? E invece poi durante la discussione sicuramente la curiosità è caduta sul film di Lazzari, anche perché soprattutto sarebbe interessante valutare anche la motivazione per cui il regista scelga e faccia una scelta sui professionalisti. E poi mi permetto di omaggiare Maurizio Casagrande, penso che sia un grande, e insieme a Vincenzo Salemme credo che sia il capostipide della maestranza della risata napoletana. Sentiamo la... Simona Montemurro, allora io sicuramente Woody Allen perché è il mio regista preferito, poi Fabio Volo e siccome sono anche un appassionato del genere horror, l'ultimo, ma anche quello del regista Giuseppe Lazzari, ma perché comunque io personalmente ho sentito parlare un gran bene e comunque vanno pubblicizzati questi film che cercano di staccarsi un po' dal genere italiano normale, insomma. Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti.